Fida delicata per la zona rossa di classifica con la discena allo stato di Riva Azzurra dove si affrontano Nova Feltria e Miramare. All'andata una delle più belle partite di Nova Feltria fu macchiata proprio dagli ospiti che sul piano del risultato ottenono tre punti vincendo per due reti a uno. Nova Feltria che arriva da due vittorie consecutive battute Poggioberdi e Colonnella nel recupero l'infrasettimanale. Il Miramare è un avversario a portata di mano, padone di casa in maglia nera, subito avanti, taburini nonostante il colore degli indumenti, fa capire a Ronci che la partita sarà tutt'altro che un funerale. Rinaldi va alla battuta, Stefanelli prolunga per Bettini che viene fermato così da Simone Rinaldi. Ammunizione per il centrale dalla punizione battuta da Fravoni nasce l'incornata vincente di Cupi. Terzo gol per il terzo di guerra ma soprattutto mai il soprannome più azzeccato, quello di Scupidù. Infatti il collo del terzino esegue il movimento del famoso carri di cartone animato e Gentili nulla può. Il Miramare risponde da punizione, Marchionna spedisce al centro, la palla viene ribattuta sui piedi o beng su quale Ronci si supera prima che la sua respita venga raccolta da tamburini. è infilata in rete ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Da un rinvio di Ronci nasce il pareggio locale, Pannone è recuperato a centrocampo, Antonioli parte da dietro e si inserisce nel pertugio giusto che li consente di avvicinarsi alla porta e di trafiggere l'estremo ospite. Rinaldi in posta, Stefanelli segue la solita azione che l'ha reso celebre ma sulla propria strada trova i piedi di Gentili a dirgli di no. E anche nella ripresa si riparte dall'azione vista nel primo tempo, Rinaldi lancia, Stefanelli di forza viene steso a terra. Dalla punizione nasce nuovamente il binomio vincente visto col colonnella, Fraboni innesca, Stefanelli in corna, di viazione vincente e non provate più a chiedere nell'affinamento di Nuova Feltria il pennello cinghiale perché il vero pennellone e il vero cinghiale in Nuova Feltria ce l'ha in mezzo al campo. Undicesimo gol di stagione, quasi a dire basta rigori, fatemi fare gol, solo come so. In Nuova Feltria nonostante l'espulsione di Amantini gioca in soltezza, Fraboni dalla sua mattonella reca qualche brivido al portiere Gentili. Il Miramare risponde con un tiro a giro di Marchionna su quale Ronci risponde da campione, sulla ribattuta arriva una comoda chiamata di Casali. Nel momento meno propenso il Miramare giunge al pareggio quando Marchionna mette al centro un delizioso babbacchi per tamburini o un gioco da ragazzi da accogliere e infilare l'incolpevole Ronci. Proteste ospiti per un possibile fuorigioco, ma le immagini e commento non ci aiutano a capire, ma evidenzano dall'altra parte l'entrata su Stefanelli da parte di Tonini, non a caso allontanato anzitempo da terreno di gioco e squadre nuovamente con gli stessi uomini in campo. Con il Nuova Feltria che al novantesimo ha l'occasione di passare, ma Raffaelli, servito da Stefanelli, viene fermato così dalla retroguarda di casa. Per il direttore di gara trattasi di simulazione di cartellino giallo. 2-2, 4 gol, 2 espulsioni e tante recrimine per una partita vincente come del resto fu l'andata. Risultato giusto per Morolli? Abbiamo avuto 10 minuti nel secondo tempo che eravamo in superiorità numerica e sembravamo noi in 10, però alla fine mi sembra che abbiamo meritato il pareggio dai. Per guerra, soddisfazione per il trend consecutivo di gare e maggior accortezza. Abbiamo concluso una settimana dietro tre partite, domenica, mercoledì, domenica. Ovviamente potevamo essere un po' sulle gambe, invece abbiamo giocato discretamente, abbiamo tenuto bene il campo. Se non recriminare no, però comunque sia, forse potevamo portare a casa qualcosa di meglio. È andata così, i ragazzi hanno giocato una buona partita, probabilmente se non creavamo due ingenuità difensive, probabilmente la partita poteva andare anche diversamente.